ciao a tutti oggi vi propongo un brano di recente produzione in 12 ottavi che suonerò nella prima parte in shuffle questo è un brano dove voglio appunto esaltare questi due groove storici che sono presenti in molti brani e userò questa canzone suonata assieme ai miei colleghi alla voce invece il cantante originale volevo far sentire appunto la differenza dei due groove perché fanno parte della stessa chiamiamola categoria ossia groove con sistema interno ternario il quattro quarti shuffle con le sestine dei sedicesimi il 12 ottavi diviso in quattro parti a gruppi di tre ottavi con uno semplice spostamento di accenti si può passare dall'uno all'altro sono due groove che hanno una sonorità morbida perché comunque non di categoria tempi che danno tensione ma permettono nei feel di lasciarsi andare a qualche caratteristica anche tecnica perché hanno internamente la possibilità di essere arricchiti per il tempo col quale vengono proposti e la suddivisione ritmica che hanno internamente buon ascolto perfect di ed sheeran shuffle e 6 ottavi Grazie a tutti 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 And you said you looked a mess I whispered underneath my breath You heard it, darling you were heard at night Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person And she looks perfect I don't deserve it You look perfect And I know 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 Grazie a tutti